Le trovate a Tutto Libri. In primo piano il volume scritto da Simone Zaccagni, La noia di un altro non vale. Alter e Rebus, pagina 205, 13, 90. 93 racconti autobiografici che prendono il titolo da una canzone di Francesco Guccini. L'autore ha raccolto la sua esperienza di telefonatore seriale alla trasmissione di Radio 2, Il rugito del coniglio, condotta da Antonello Dose e Marco Presta, che hanno curato la prefazione. Dai racconti ricchi di episodi, aneddoti, incontri e personaggi emerge la vita quotidiana di un irrequieto eugubino dalle mille attività e interessi. Una vita frenetica, piena di sorprese di tutti i tipi, raccontata con la leggerezza di chi ha fatto della proverbiale pazzia eugubina un modello di vita. Paolo Galli, medico ginecologo in pensione, offre nel suo volume, La voce dell'imene, Memorie di un ginecologo, Europa Edizioni, pagina 217, 14, 90. Una testimonianza umana e professionale del tutto inedita e singolare. Un viaggio nell'universo donna, partendo dal corpo, che si traduce in una esplorazione dell'animo e delle diverse anime femminili. La sua professione lo ha avvicinato a donne diverse, dalle quali ha colto stati d'ansia, emozioni, drammi e felicità. La narrazione in punta di penne, sempre con una visione medica, si avvale di ricordi autobiografici. L'autore, oltre a medico, si rivela un ottimo psicologo. Alessandro Allegrini, autore di Alfiero Teopetti, Una spalla per amico. Morlacchi, editore, 126 pagine, 20 euro. Un libro che rende omaggio all'attore nato a Palazzo di Assisi, dall'incontro con Pupiavati a quello con Raffaella Carrà in Domenica Inn, dalla collaborazione con Lino Banfi e a stasera Lino, su Rai 1, ai film Al fianco di Pozzetto, Villaggio, Castellitto, Cristian De Sica, Giannini e Batantuono, a quelli diretti da Tornatore Scorsese. Un libro con le testimonianze di Fabio Melelli e di Massimiliano Castellani. Ed è tutto, appuntamento alla prossima settimana.